E' rosa russa, ti ricordi quel brano di allora? E' quando lo suoniamo? Non l'abbiamo mai suonato, con Massimo non l'abbiamo mai fatto, rosa russa, comunque è quel brano che c'è in suono abbattente, possiamo provare. La lettera 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 La 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 lettera La lettera Olì, olì, la palma mia Olì, olì, la palma bella Olì, olì, la palma mia Olì, la palma mia